Ciao ragazze, oggi non mi vedrete nello schermo perché ho deciso di realizzare una nail art quindi vedrete solamente le mie mani. Cosa ci serve per questa nail art? Diciamo che ci cimentiamo anche noi. Allora, vi serve uno smalto trasparente come base io sono semplicissima, ma voi potete utilizzare anche uno smalto che vi faccia proprio da base poi uno smalto colorato di un vostro colore che vi piace io utilizzo questo smaltino azzurro, molto estivo tra l'altro poi uno smalto bianco per realizzare la nail art un dotter, va bene ma anche un semplicissimo stuzzicadente io utilizzo questo perché ho comprato apposta dal dotter dell'essence poi un dei brillantini io ho la ruota di glitter che mi è arrivata qualche giorno fa dalla Frauline quindi oggi sperimentiamo questi glitterini e infine un top coat per cercare di stabilizzare il tutto per prima cosa prendiamo un foglio per non sporcarci e quindi lo utilizziamo per metterlo sotto io ho dato già una mano di smalto trasparente quindi nella base su tutte le unghie l'ho fatto asciugare e una volta che il nostro smalto trasparente si è asciugato prendiamo il nostro smalto che vogliamo utilizzare io utilizzo questo che è della Lost e che il numero, per chi lo volesse sapere, è 138 ok, si leggerà ecco questo qui, è il numero 138 è un color puffo praticamente e allora lo vado a passare su tutte le unghie vediamo non so se è necessario fare una sola passata o due ora vediamo perché è la prima volta che lo uso praticamente nuovo questo smalto no, direi che potrebbe bastare anche una sola passata anzi decisamente basta una sola passata come potete vedere è molto coprente e quindi una sola passata va bene quindi cosa facciamo? andiamo a passare lo smalto su tutte le unghie e poi vi faccio vedere cosa fare una volta che abbiamo dato lo smalto su tutte le unghie e vi dirò che veramente è stata necessaria una sola passata per avere un effetto molto coprente vi volevo dire una cosa sempre capita di sporcarvi come per esempio è capitato a me qui perché io sono una pasticciona cosa potete fare? e adesso lo facciamo insieme prendete un cotonfiocco come questo lo bagnate lo bagnate nell'acetone non troppo poco e poi che cosa fate? andate nei bordi perché io ho nei bordi che mi sono sporcata e leggermente strusciate sopra però senza toccare lo smalto in modo tale che le bordi potete tranquillamente pulirlo così potete pulire tra l'altro io sporco sempre la mano sinistra perché anzi la mano destra perché siccome metto lo smalto con la sinistra nella mano destra di qua viene sempre male e quindi sono costretta a fare così perché mi sporco praticamente sempre quindi qui che è tutto diciamo che ho sporcato un po' comunque vabbè e qui quando si è asciugato riprendete e lo mettete l'ho bagnato un altro po' diciamo che più che questi sarebbero i ideali e quelli lì più sottili davanti perché questi sono quelli diciamo più bombati e quindi con questi è già più difficile perché veramente se toccate lo smalto ve lo andate a a rovinare mi sto accorgendo che non si vede niente alla telecamera mi piace questo colore un bel colore allora dopo aver più o meno tolto tutto andiamo a prendere il nostro smaltino bianco ok quindi posto questo una volta che si è anche asciugato il nostro smalto prendiamo lo smaltino bianco lo smaltino bianco questo qua io uso uno smaltino bianco della Jolie che è il numero 4 F si vede? ecco questo qui è è della Jolie questo smalto tra l'altro costa tipo 1,50 euro mentre lo smalto che ho fatto vedere prima della Lost costa 1 euro allora prendiamo questo smalto e ne mettiamo una goccia abbastanza grande sul foglio così e poi chiudiamo il nostro smalto prendiamo il dotter o qualsiasi cosa voi abbiate per fare delle palline con il dotter o con uno stuzzicadente lo immergiamo nella nostra pallina di smalto che abbiamo messo sul nostro foglio e ne preleviamo un po' così prendiamo la nostra bella unghia che vogliamo iniziare da da al mignolo e che ci facciamo sopra? ci facciamo ci facciamo nell'angolo sinistro una zampetta di cane ok allora vi faccio vedere ora come mi metto per farvi vedere? metto lo zoom ok metto qui si vedrà? non si vedrà si vedrà allora dobbiamo fare una palla più grande in basso e tre palline più piccoli sopra quindi procediamo in questo modo una palla bella grande e facciamo delle tre palline una volta fatta la nostra pallina bella grande una volta fatta la nostra pallina bella grande sopra e quelle palline che noi andremo a fare più piccole saranno di semplici puntini quindi velocemente uno due tre da ottenere un risultato come questo che non si vedrà vedete? così vedete? una palla più grande e tre palline sopra e lo facciamo per tutte le unghie quindi riprendiamo il nostro dotter se lo smalto che abbiamo visto si è seccato ne prendiamo un'altra uccitina la ripoggiamo sul nostro foglietto sto parlando a scatti ok prendiamo il dotter lo bagniamo facciamo una pallina bella grande nell'angolo e tre sopra una pallina cicciotta ok fatta la pallina cicciotta sopra ne facciamo tre appuntini velocemente uno due e tre da ottenere un risultato come questo e lo faccio per tutte le unghie quindi pallina nell'angolo uno due e tre quindi uno due e tre ok e continuo così allora questo è l'effetto che dovreste ottenere quindi una pallina grande e tre puntini sopra allora vi dico una cosa per chi ha la possibilità di comprare un dotter che costa tipo 2 euro e 50 perché il dotter è della essence e questo è il prezzo vi dico che vi conviene perché con uno stuzzicadente o qualsiasi altra cosa voi utilizzate credo sia molto più difficile perché essendo avendo il stuzzicadente una punta molto più diciamo aguzza rispetto al dotter sarà molto difficile riuscire ad allargare la pallina grande sotto e a fare dei puntini che abbiano più o meno la stessa grandezza mentre il dotter poiché ha una punta praticamente rotonda sopra bombata e rotonda che non so come farvi vedere ecco così potete vedere dove mi sono sporcata ha una punta bombata e rotonda è molto più facile riuscire anche a modulare lo smalto e il prodotto che prendete ehm infatti io non sapevo dell'esistenza di questa cosa finché non sono andata in un negozio della Essence e ho scoperto che in realtà esiste il dotter ehm ok e ripeto la stessa operazione anche sulla mano destra una volta messo ehm fatto l'operazione su tutte le unghie cosa vado a fare? bagno il dotter e prelevo un brillantino dalla ruota io ne prelevo uno bianco e con lo smalto ancora fresco su quest'unghia lo vado a mettere qui all'interno della pancia grande della bolla più grande della zampa ok una volta incastonata dovrebbe ehm dare questo effetto qui non so se riuscite a vedere così ok a questo punto do una passata di top coat su tutte le unghie e su quelle in cui ho messo il brillantino questo svaroschetto si questa pietruzzina ne do due questo ragazze è il risultato finale spero che vi piaccia e che siete riusciti a seguirmi perchè lo so che ho fatto tantissima confusione per qualsiasi domanda e spiegazione basta che mi lasciate un commento e niente vi saluto un bacio al prossimo video ciao ciao